bella qui Mizza con Duyuna e oggi sono finalmente tornato con un altro video delle strategie di zombie per Jinba Network prima di cominciare però volevo spiegarvi un po' del perché della mia assenza delle varie sfighe delle varie storie che ci sono state in mezzo in questo periodo innanzitutto beh come vi ricorderete il mio ultimo video è stato diciamo pubblicato a giugno inoltrato e quindi diciamo che era già cominciata l'estate non diciamo era già cominciata l'estate un'estate in cui io sarei dovuto rimanere a casa parecchio tempo e in realtà invece si è dimostrata essere una dell'estate in cui io ho visto la casa proprio mai perfetto è qui già il primo problema il tempo poi come se non bastasse ci sono stati problemi di internet che hanno aiutato a fanculizzare le mie partite di zombie e come ciliegina sulla torta la mia cara play 3 che ha deciso di farmi ripristinare il file system in seguito a una caduta di corrente bellissimo e quindi a farmi ripristinare la console con conseguente cancellazione di tutti gli account di tutti i dati degli account quindi anche i dati degli account da cui mi avevano passate le mappe voi direte ma che problema c'è puoi sempre farteli ridare beh no in realtà no perché quelli che mi hanno passato le mappe non li ho mai più sentiti saranno un anno due un anno e mezzo che non li sento e in più come se non bastasse con la caduta del psn i vari account sono stati resettati dai loro proprietari quindi non posso nemmeno provare con la password precedente per cui sono fottuto vabbè dai ragazzi comunque consoliamoci con questo video in cui vi parlerò anche un po di black ops 2 zombie in maniera piuttosto leggera anche perché cercando su internet potrete trovare un sacco di cose probabilmente anche più di quello che vi dirò ma cominciamo subito oggi come avrete potuto notare dal gameplay siamo in kino der totten e sto giocando in singolo si in singolo esatto perché mi sembrava giusto in questa serie includere anche una strategia per singoli giocatori ma non vi preoccupate che per questa mappa kino der totten arriverà in breve anche una strategia per 2 3 4 giocatori una strategia diciamo piuttosto multiuso che in realtà si riconduce anche abbastanza quella in single player ma con sostanziali differenze infatti come al solito nei primi round dovrete picchiare gli zombie sostanzialmente a coltellarli ecco sparando i colpi di pistola solite varie cose alla fine quando giocate da soli non è non è importantissimo quanti colpi sparate anzi in realtà non è mai importantissimo quanti colpi sparate uno può fare stare lì a fare la cresta ogni colpo per fare più punti ma non sono quei 10 20 punti che solitamente ti cambiano la partita all'inizio quindi per i primi quattro round state così tranquilli ovviamente io lo faccio sempre più che altro per sicurezza compro l'MK14 e comincio a fare headshot che lo trovo più rassicurante rispetto a un giocare solo così con la mia pistolina diciamo che avendo io una sorta di paura per questa modalità difficilmente mi lascio mi lascio in situazioni abbastanza svantaggiose in cui potrei essere fottuto ho parecchia pippa al culo di morire ma poi muoio sempre come un coglione ovviamente beh comunque accumulati abbastanza punti superati 4 5 round o a seconda dipende quanti ne volete fare all'arrivo dei cani vi consiglio vi consiglio di aprire la porta in alto a destra e subito di conseguenza la porta successiva è sconveniente fermarsi in quella stanza di mezzo dove c'è il calcio del mulo perché gli zombie arrivano da sopra arrivano da tre punti non avete vie di fuga e siete fottuti quindi aprite la porta e correte subito giù dalle scale dove potrete trovare al piano diciamo di sotto nella parte di sotto la mp 40 mentre in quella di sopra uno stake out che in giocatore singolo è abbastanza utile io generalmente lo sconsiglio perché fa i pochi punti però se come me preferite fare i cani in completa scioltezza compratelo perché per fila al round 11 12 dovreste riuscire ad affrontare i cani in maniera tranquillissima con quell'arma senza potenziare niente comunque come al solito rimanete in questa stanza per qualche round e fate punti pronti ad aprire le due porte successive ora qui si presenta una scelta in singolo giocatore solitamente conviene attivare subito subito l'elettricità e quindi comprare la juggernaut ma se siete in più giocatori potete anche stazionare lì più round ma ne parlerò più dettagliatamente nel prossimo video quindi attivate l'elettricità e se avete i punti comprate subito la juggernaut che vi permetterà di avere una resistenza maggiore ma spero se seguite i miei video che lo sappiate dopodiché attivate il teletrasporto collegandolo sempre al nucleo che si trova nella stanza in cui siete nati e dopodiché fondamentalmente non dovrete fare altro che cercare di resistere beh detta così sembra facile ma analizziamo bene in singolo giocatore la tecnica più diciamo vantaggiosa più che ripaga maggiormente il giocatore è il rape train ossia quando voi create un trenino appunto di zombie dietro di voi che vi seguiranno che ovviamente non riusciranno a colpirvi a cui voi non sparerete fino a che non ne avrete raggruppati un po e vi girerete per fargli il culo in kino der totten è molto facile da fare nella zona del teletrasporto del teatro e veramente potete sbizzarrirvi coi giri potete farne 1200 300 io non sono molto bravo in questa tecnica se devo essere onesto perché non lo so non mi sono mai allenato quindi non puoi diventare bravo in una cosa se non la fai mai e quindi boh continuate con rape train uccidete gli zombie fate punti cassa comprate le bibite e sbizzarritevi in questo modo potrete arrivare tranquillamente a round alti io in singolo sono scarso per cui sono morto abbastanza in fretta a round 17 mi sembra ma non è questo che importa vi ricordo però che nel momento in cui vi troviate in difficoltà che vi sbagliate col giro prendete male insomma vi portate male dietro gli zombie ve ne ritrovate davanti insomma se siete in emergenza vi consiglio di scappare verso la stanza in cui siete nati e fare il giro lungo per ritornare lì nel teatro e ricominciare a fare il trenino bla 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 una cosa importante che vi consiglio io è di non aprire la porta del teatro di fronte a quella da cui ci entrate o meglio mi spiego voi arrivate c'è il teletrasporto dalla parte del teletrasporto dietro c'è una porta avrete capito quella porta li vi consiglio di non aprirla perché nell'effettuale il rape train è facile che uno zombie vi arrivi da quella porta e potrebbe essere fastidioso mentre così avrete quasi sempre quella via chiusa lì non ci sarà quasi mai nessuno a parte quella finestrella lì e non dovresti avere generalmente problemi ora che la tattica è finita parliamo di black ops 2 abbastanza velocemente perché le cose a dire non sono troppe ma non perdiamo tempo allora che cosa sappiamo per adesso beh innanzitutto che si potrà giocare fino ad 8 giocatori che se è aumentato il numero di zombie spawnabile in una volta sola cioè di zombie in campo perché a detta di try arc il le partite di black ops sono state affidate al multiplayer quindi non so se questo vorrà dire che per giocare dovremmo essere connessi ma penso di sì poi che cosa sappiamo avendo visto il trailer che vi invito andare a cercare su youtube si trova facilmente quello dell'autobus abbiamo potuto notare come ci sia una sorta di campagna di black ops in cui ci sposteremo da una locazione all'altra usando anche un pulmino però durante il viaggio in questo pulmino noi dovremo difenderci da degli zombie che incredibilmente riescono a correre veloce come un pullman e a quanto pare succede sono putrefatti ma corrono come un pullman beh l'ultima novità è che ci sarà un 4 contro 4 credo anche a scommessa in cui non ci potremo sparare fortunatamente e dovremo affrontare un nemico comune cioè gli zombie da quello che hanno detto in più hanno ampliato le mappe hanno aggiunto nuove cose quindi sono molto speranzoso su questa modalità per cui vi invito a lasciando mi piace se vi è piaciuto il video se vi è stata utile la tecnica lasciatemi un commento dicendo cosa ne pensate e vi ricordo di inviarmi a nuove tattiche nuove idee per zombie specialmente d5 dato che è l'ultima mappa che mi è rimasta se avete qualcos'altro da aggiungere mi scuso infine giustamente con quelli che mi hanno chiesto di giocare che non sono riuscito ad accontentare mi dispiace ma ci sono state forze più grandi di me che mi hanno impedito di farlo comunque se vi va passate dal mio canale vi ricordo di iscrivervi a jimba network e che dire al prossimo video